erano due fratelli, uno... che tonno Argo, come mi tenete la pezza su gli occhi grazie comunque, è certo che anche te ne hai pezzi di capelli, eh mi salta la gola, hai detto, ti ha prendo il sito di tradazione grazie, grazie toglie le nazi e taglia la macchina un milanese, un milanese, un milanese un milanese, un milanese ma... ma Mish, ma è tre volte te, ma che vuoi fare? grazie, grazie sentirsi a casa, grazie, grazie è molto bello è molto bello vedere gente che ha voglia di divertirsi con questa critica infatti si incida, ma è bello è bello, è bello perché le notizie che arrivano aiutano anche noi e si dice, con il governo Monti non c'è capo, c'è... hanno scoperto Lusi questo tettoriere della Margherita e della Pizza Connection Lusi ha messo un modo nuovo di pensare ha detto, 13 milioni di euro ho bisogno di pregoli domani vedi una macchina aperta e entri pari vuoi trombare? me la devi dare è un concetto che oramai è nazionale è nazionale, questa è una cultura, è una nuova cultura la fornero... la fornero... quando la vedi...